La prossima riunione del gruppo Satura di scrittura, che faremo il 21 al 18 come al solito, parleremo di tante cose come al solito, ma sarà incentrata soprattutto su un romanzo mitico che è Il piccolo campo di Eskin Coldwell, dal quale fu trattato anche un film e come romanzo fu sequestrato per l'uscenità, eseguì un processo da cui Coldwell poi venne assolto, però fece molto rumore. Ne parleremo, lo racconteremo, naturalmente leggeremo l'Incipit e poi faremo anche altre cose, parleremo di Kitz e di Alda Merini, quindi leggeremo due poesie, uno di Kitz e uno di Alda Merini, che trattano invece dell'amore, dell'amore, amore, amore, amore non platonico, ma comunque dell'amore, nel senso più alto che è, diciamo, diverso dall'amore molto sensuale, che tratta invece Coldwell di solito. Coldwell, vi ricordo, che ha scritto anche La via del tabacco, un altro film che di nuovo è stato tradotto in un film mitico, anche quello. E Coldwell tratta del, diciamo, il soggetto principale preferito da Coldwell sono i poveri, disegredati, parla di contadini americani della Grande Depressione dopo, da povertà. E poi vedremo qual è lo spunto, sorpresa, sorpresa, vedremo qual è lo spunto grafico per i compiti della prossima riunione. Naturalmente anche la riunione del 21, e i partecipanti leggerebbero i loro contributi, i loro racconti bonsai. E basta, nient'altro. Ci vediamo il 21.